Mamma mia ragazzi, che partita, mamma mia che partita, è appena finita la partita con un po' di tensione, con un po' di nervosismo dai giocatori perché Ibra ha preso con Berlanuca l'Eva che giustamente si arrabbiata e scoppiata così una mezza rissa che ha costato l'espulsione a Sarri, però comunque un Milan grandioso che ha stravolto, appare il mio, la Lazio una Lazio che nel primo tempo ha giocato bene, ha fatto delle buone azioni però non ha fatto dei pericolosissimi nello specchio però poi nel secondo tempo è sparita col tutto, il Milan ha fatto sparire la Lazio, nel secondo tempo l'ha fatta così sparire che la stanno cercando secondo me a chi l'ha visto perché è veramente un Milan grandioso, un Milan veramente grandioso che sebbene la Lazio nel primo tempo ha giocato bene e ci ha provato con i vari tentativi in porta comunque diciamo il Milan ha spinto molto molto di più con Brain Diaz e Rebic e Leao e alla fine ha trovato il gol al 44esimo appunto con Rafael Leao davanti alla porta su assist di Rebic nel 45esimo invece c'è stato un contatto immobile su Chessy che l'arbitro poi è andato a rivedere ha convalidato il rigore al Milan e alla fine il rigore però non è costato caro al Lazio perché poi che si è preso la traversa ha sbagliato il rigore proprio nel finale del primo tempo allora ragazzi io vi dico questo, il rigore c'era, il rigore c'era sacrosanto perché allora sappiamo tutti che nel calcio bisogna essere sportivi, in generale bisogna essere sportivi e infatti per questo il rigore su Chessy c'era anche i laziali secondo me lo dovrebbero accettare perché il calcione è netto proprio, il contatto è netto, è dato un calcione secondo me a Chessy e quello secondo me costava il cartellino giallo immobile, almeno il cartellino giallo secondo me bisogna tagliare ma non lo dico perché sono romanista, lo dico perché è così perché secondo me quel fallo che ha fatto su Chessy era da giallo quindi io penso questo poi chiusa la parentesi, rigore nel secondo tempo il Milan cresce sempre 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 di più crea occasioni da gol, gioca secondo me molto molto meglio però diciamo, secondo me gioca ancora meglio rispetto al primo tempo perché il primo tempo ha giocato bene ma il secondo tempo gioca ancora molto di più cresce sempre di più ma poi con l'entrata in campo di Ibra veramente poi è arrivato il gol del raddoppio che praticamente ha chiudo la partita secondo me e devo dire con l'arrivo di Ibra non ci sono state speranze per la Lazio per ripartire per prendere palla a ripartire perché in difesa poi il Milan ha creato un muro poi con Hernandez e Calabria che sono stati dei muri non hanno fatto passare nulla e poi soprattutto correvano, correvano hanno scambiato molti hanno fatto molti scambi con dei giocatori hanno scambiato molti passaggi con dei giocatori con dei compagni di squadra e poi alla fine diciamo sono riuscito a portarsi a casa questa vittoria la Lazio quindi ci ha provato ripeto ci ha provato soprattutto nel primo tempo perché nel secondo tempo non si è fatta vedere più ma alla fine non è riuscita a fare un gol e poi soprattutto non ci sono stati così grandi tiri nello specchio però diciamo ci ha provato ecco ci ha provato e invece il Milan ha devastato una Lazio che ha giocato secondo me ha giocato male e devo dire secondo me i migliori della Lazio quelli che salvo secondo me sono Pedro, Luiz Alberto e secondo me io aggiungerei anche Felipe Anderson e Milinkovic e giungo questi quattro qua secondo me questi quattro giocatori qua hanno giocato meglio in campo mentre invece nel Milan secondo me il migliore in campo è stato Rebic secondo me Rebic è stato il migliore in campo perché ha fornito l'assist per Leao ha fornito l'assist anche per il gol di Zlatan Ibrahimović devo dire Rebic ha fatto una grande grande partita quindi il Milan che sale in classifica la Lazio fa un passo falso nella terza giornata dopo due vittorie di fila quindi la Lazio nella prossima partita dovrà cercare di rimborcarsi le maniche e di ripartire con una vittoria anche se non sarà molto facile perché adesso è stato espulso Maurizio Sari proprio nel finale della partita e giustamente la Lazio giocherà con il suo vice allenatore che è Martuscello se non erro e quindi che dire questa diciamo era la mia analisi post partita Milan-Lazio ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace un commento fatemi sapere la vostra riguardo Milan-Lazio fatemi sapere se sono voi chi è stato il migliore in campo tra Milan e Lazio fatemi sapere se sono voi chi è stato il migliore in generale di questa partita e che dire Bella Roby vi manda un salutone un bacione noi ci vediamo al prossimo video e sempre sempre forza Roma ciao ragazzi